Benvenuti su Sicilia Way, oggi abbiamo con noi Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle, candidata al Comune di Catania. Lidia, benvenuta. Grazie innanzitutto per l'invito e per averci voluto qua assieme per spiegare un pochino le nostre ragioni. Qualcuno ci dice che noi non appariamo, noi siamo qua, siamo a Catania, siamo stati sempre assieme cittadini e abbiamo già iniziato a lavorare insieme. Però dall'apertura della candidatura questa è la prima intervista, noi siamo felici di averti qui con noi. Sì, questo è vero perché ci siamo un po' aperti alla città durante i nostri tavoli di lavoro, abbiamo chiesto alla cittadinanza di partecipare, a quelli che sono stati un pochino lo studio del PRG, del PUA e anche delle cose un po' meno tecniche come alcuni punti di vista riguardo all'ambiente, quello che sono le nostre 5 Stelle che normalmente sono i punti dai quali noi partiamo. Tutte queste cose abbiamo visto come poterle analizzare assieme, per cui abbiamo sviluppato delle idee, ma il nostro sarà un programma in continua evoluzione, sarà un programma un po' work in progress che costruiremo sempre insieme ai cittadini. Ma nel frattempo ci sono già dei punti fermi da cui intendete partire? Sicuramente le 5 Stelle da cui noi veniamo, la partecipazione dei cittadini, noi se andassimo a governare certamente quello che chiederemo è un taglio dei costi della politica, un bilancio partecipativo, ci costituiremo parte civile se andremo al comune per capire chi ha costruito questo buco nel bilancio, perché noi riceveremo un bilancio assolutamente disastrato, con tante cifre anche fuori bilancio, ma poi di questo ne porteremo a parlare un po' più approfonditamente, magari giorno 3 maggio, quando noi faremo davvero la nostra apertura ufficiale, la faremo allo zoo alle ore 20, io invito tutti i cittadini a partecipare perché presenteremo un pochino tutti quelli che saranno i consiglieri comunali. Catania è in predisesto, questo è vero, però ha bisogno di interventi interessanti e pratici per il rilancio dell'economia, del turismo, ci sono delle cose che avete intenzione di fare in tal modo senso? Allora sì, già è emerso qualcosa, però torno a ripetere, saranno risposte che noi andremo a ricercare con i cittadini, per noi sicuramente il turismo e la cultura rappresentano un po' quello che deve essere un binomio, imprescindibile per quello che sarà lo sviluppo, uno sviluppo sostenibile, quindi uno sviluppo che tenga conto della riqualificazione dell'ambiente, poi alcune idee non le voglio anticipare, le voglio lasciare per giorno 3. Noi speriamo di poterle avere, nel frattempo volevo un'idea, un'opinione sul raddoppio del nodo ferroviario di Catania, sapere che cosa ne pensate? Anche di questo abbiamo un po' accennato durante gli incontri che abbiamo avuto, Allora io vorrei che sia chiaro che se noi toccasse di dover governare la città, quello che andremo a fare riguardo al PRG, riguardo a queste varianti, a questa proposta, a questo progetto di RFI, di fare questo doppio binario, noi ci vogliamo aprire la cittadinanza, noi siamo coloro che andranno a chiedere ai cittadini di partecipare alle scelte, quindi faremo dei referendum propositivi senza quorum, diremo ai cittadini di dirci la loro, e in base alle loro indicazioni poi provvederemo. Di certo a noi il tentativo di costruire questo tunnel, questo doppio binario, che poi può anche provocare dei danni in superficie, è una cosa che non piace perché sono territori dati... Scusami, si parla di sventramento o di abbattimento di alcuni palazzi del centro storico, anche di notevole pregio. Infatti, su questo siamo assolutamente contrari, noi siamo per la riqualificazione dei centri storici, perché noi sappiamo bene qual è il problema di Catania, la struttura, diciamo, riqualificare e dare un nuovo assetto a quelle che sono le problematiche relative all'antisismicità, perché noi siamo una città ad altissimo rischio sismico. Effetto Friuli? Avete paura di questo? Allora, noi è chiaro che proveniamo da un risultato stratosferico, sicuramente trainato dal tour di Grillo e abbiamo visto ciò che è successo adesso in Friuli, diciamo che i mass media non dicono esattamente la verità riguardo a ciò che sta succedendo a Roma. Loro dicono che siamo noi che non abbiamo fatto l'accordo, mentre sappiamo che Bersani è stato lui a non voler fare l'accordo. Abbiamo proposto un nome della loro area, abbiamo proposto Rodotà, loro di fronte a questa nostra, diciamo, sollecitazione, di fronte al fatto che abbiamo detto di fare una legge e una legge elettorale che possa dare al cittadino la preferenza, di fronte al fatto che abbiamo chiesto un reddito di cittadinanza per i cittadini, di fronte al fatto che abbiamo chiesto l'inelegibilità di Berlusconi, loro hanno detto no, noi non vogliamo farle queste cose, Bersani si è dimesso, non so quale sarà la sua sorte, quale sarà la sua linea politica. Vedo che i giovani del PD in questo momento hanno dichiarato di essere vicini, di essere aperti al Movimento 5 Stelle e diciamo che i mass media di questo non ne parlano, parlano invece che siamo stati no, che abbiamo causato la chiusura e quindi tutto questo magari ha causato l'effetto Friuli. L'ultima domanda, in tre parole chi è Lidia Adorno? Lidia Adorno è assolutamente una persona normalissima, sono assolutamente sorpresa di ciò che è successo in questi ultimi due mesi nella mia vita e ne sono contenta, io nella vita sono una precaria della scuola, lavoro nel settore dell'amministrazione, però mi sono sempre un pochino interessata, avendo un po' questo senso civico che ho ereditato da mia madre, la quale sin da allora mi ha insegnato quei valori importanti di partecipazione, di condivisione del pensiero, di poter dire la propria all'interno, di poter dare il piccolo contributo che poi magari può diventare una grande cosa se tutti insieme riescono a dire la propria, a incidere.